E' durata solo una manciata di ore l'evasione di Peter Madsen, l'imprenditore danese condannato all'ergastolo per l'omicidio della giornalista Kim Wall, compiuto a bordo del suo sottomarino privato nel 2017. Secondo quanto rende noto la polizia, l'uomo, dopo che era riuscito a lasciare il carcere di Harted Wester usando verosimilmente un'arma e minacciando di fare esplodere una bomba è stato arrestato a meno di un chilometro dal muro perimetrale della prigione. Solo quest'anno Madsen ha ammesso la propria responsabilità nell'omicidio della reporter che era a bordo del sommergibile per scrivere un articolo su di lui e sulla sua passione autodidatta per gli oceani e per lo spazio. Secondo quanto ricostruito nel processo Kim Wall venne uccisa a bordo del sottomarino, parti del suo corpo fatto a pezzi e gettato nel mare baltico, sono stati recuperati perché portati alla deriva nella baia di Coge.